vi è mai capitato di andare in una certa stanza in casa vostra per una determinata ragione e durante il tragitto dimenticarvi il motivo per il quale lo state facendo non è strano una cosa così non è normale la gente si dice ah che sbadato che sono da sono proprio stupido oggi ho proprio la testa fra le nuvole la gente lo dice per sentirsi al sicuro perché ignora la realtà dei fatti la mente umana a seconda di quanto è temprata alla visione di un evento scioccante reagisce in tre modi va in stato di shock sviene o nel peggiore dei casi quando ciò che è successo va al di fuori dell'umana concezione di ciò che gli occhi umani riescono a sopportare rimuove tutto il cervello cancella di colpo il ricordo di ciò che si è visto e di ciò che si è sentito per preservare la sanità mentale cosa c'entra la premessa con questo curioso aneddoto scientifico la prossima volta che vi dimenticate il motivo per quale state facendo qualcosa guardatevi intorno